Ragazzi riprendiamo il nostro viaggio nel mondo dei protisti, l'avevamo interrotto parlando dell'euglenozoa, delle tripanosoma brucei che portano alla malattia del sonno e riprendiamo parlando ora dei ciliati. I ciliati sono degli eucarioti unicellulari, tra i più belli da vedere al microscopio, sono molto facili da trovare nelle acque degli abbeveratoi, al contrario dei flagellati per muoversi non usano uno o due flagelli, ma usano tanti flagelli piccolissimi corti chiamati ciglia. Il più famoso è il parameccio, il parameccio come ho detto è unicellulare molto evoluto, ha evoluto un citostoma, cioè una zona del corpo in cui può avvenire l'alimentazione, lui si nutre inglobando particelle organiche all'interno di vacuoli, ma vedremo dei bei video sul parameccio. Vediamo prima di tutto qualche immagine e ora andiamo, interrompiamo un attimo, andiamo a vedere un video sul parameccio appunto. Bene, andiamo a vedere, eccolo qui, questa è una colonia di paramecci che si sta nutriendo voracemente. velocemente. Come potete vedere si muove relativamente velocemente grazie alla moltitudine di ciglia che ricopre il corpo. Un altro cigliato. Qui si vedono bene le ciglia che permettono al cigliato di muoversi. Quei puntini verdi all'interno del citoplasma potrebbero essere delle alghe che lui ha inglobato per endocitosi come alimento. Quello che stiamo vedendo è un uno spirostoma semivirescens. È un cigliato che alleva dentro il suo corpo delle alghe zoclorelle e dei simbiosi con queste alghe. E grazie a questa simbiosi riesce a raggiungere dimensioni notevoli. Questa che state vedendo è sempre una cellula di un unicellulare cigliato del gruppo delle vorticelle. Con una corona di ciglia produce un vortice che spinge le particelle di cibo presenti nell'acqua verso il suo citostoma e poi le ingloberà e se ne nutrirà. Un altro esempio di vorticelle al microscopio. Le vorticelle sono abbastanza comuni. Come vedete sono provviste di un peduncolo con le quali si aggrappano le superfici. Io ne trovo spesso ancorate ai filamenti di spirogira, l'alga filamentosa. Qui si può vedere bene la corona di ciglia. E come vedete l'acqua intorno alla vorticella si muove perché viene continuamente agitata dal movimento delle ciglia. che funzionano sostanzialmente come degli aspirapolveri acquatici. Qui vediamo un video in inglese di YouTube. Qui le vorticelle sono attaccate all'alga filamentosa spirogira. Qui vediamo il movimento delle ciglia. Questa è una colonia di vorticelle. Vedete come si contraggono quando sono spaventate? È un comportamento di difesa. Sulla destra si vede una vorticella in divisione. Bene, abbiamo visto dei video sui cigliatti. Qui potete riconoscere un parameccio. Qui possiamo riconoscere la vorticella. Come potete vedere nelle immagini a destra, in basso, si vede una vorticella completamente, col peduncolo completamente esteso. E in 3 microsecondi il peduncolo si contrae completamente. Il movimento di contrazione del peduncolo della vorticella è un comportamento di difesa. E lo fanno per scappare dai predatori. Per esempio, un'ameba, piuttosto che, piuttosto che non si dice, però comunque in alternativa ad altri predatori. Qui un'altra immagine con la vorticella completamente estesa, col peduncolo esteso o col peduncolo contratto. Ecco, e qui vediamo il plasmodio. Questo gruppo di protozoi, i plasmodi, purtroppo sono, prendono il nome di sporozoi, sono organismi parassiti. Il plasmodio malaria, in particolare, infetta il sangue, viene trasmesso dalla zanzara. Ora, in questa foto, in questa immagine, vediamo i globuli rossi dentro il sangue e dentro uno dei globuli rossi c'è una piccola colonia di plasmodi in divisione. Quando il plasmodio è dentro il globulo rosso si divide, riempie i globuli rossi fino a farli scoppiare e quando i globuli rossi esplodono, la persona che ha la malaria ha delle forti febbri, le cosiddette febbre malariche. La malaria è una malattia invalidante perché indebolisce, impedisce di lavorare e a lungo andare le febbre diventano talmente forti che può avere un decorso fatale, può portare anche a morte. Qui vediamo la zanzara nofele che ha il plasmodio nelle sue ghiandole salivarie, e quindi anche la zanzara nofele è ammalata di plasmodio e quando punge una persona trasmette con la saliva questi protisti, questi parassiti. Nel prossimo video parleremo delle bacine riofficie, delle diatomee. Sono sempre degli unicellulari ma molto belli delle alghe unicellulari.